Stiamo parlando di OneFootball, l'applicazione per eccellenza nel mondo del calcio. Qua sotto trovate il primo link nella descrizione per scaricarla, è gratuita sia per Apple che per Android. Ma che cosa fa l'applicazione di OneFootball Bombers? In questo periodo ci aiuta molto con il fantacalcio, infatti io sono ancora dubbioso se comprare Suarez oppure no. Suarez dice all'Atletico Madrid ed è aggiornata in questo momento, aspetta. Non è italiano. Non è italiano, non ha imparato a parlare italiano. Ragazzi vi permette anche di sapere in tempo reale il live score delle partite di tutti i campionati principali, ma soprattutto le probabili formazioni, ragazzi, per chi fa il fantacalcio è essenziale. Noi inizieremo il fantacalcio e lo stiamo utilizzando ad hoc. Ecco, alla fine rimane a Roma, va a Lejuve, così no. Utilizziamo OneFootball così andiamo a vedere, bombe, perché dobbiamo andare a vedere, bombe, scaricatela voi. Sotto il link, primo link, scaricatela, bombe, scaricatela. No, 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 no. Ragazzi. No, mamma mia ragazzi. Bravo di che. Come amici? Noi siamo i due bomber al freestyle. Bomberissimi. Rieccoci qua al campo dei due bomber con una persona, ovvero un oggetto speciale, ovvero la ruota della fortuna. Non so quanto sarà, proprio perché, no, aspetta, ben dietro, zapp così. Eh, no, ma stavo rifando. Perdi un punto, ragazzi, quest'oggi ci sarà la ruota della fortuna, dove all'interno ci sono tantissime challenge e chissà quale sarà la challenge che andremo a scoprire durante questa challenge. Bombers, mi raccomando, 10.000 mi piace per vedere il prossimo video con la ruota della fortuna o della sfortuna, dipende. Scriveteci qua sotto cosa preferite, quale sfida andare a fare e bombers, ci vediamo alla prima challenge. Pari. Sì, pari. Bimbo. Parti tu. No, a cosa c'è? Entro. Va bene, dai, parto io, ragazzi. Ho deciso questa mattina, me lo sento. Sì, sì. No. Ah, ottimo. Ok, quindi Zappigno da zero arriva a meno uno. Comunque, se dovessi fare cinque giri così, ho vinto la sfida. Ho vinto la sfida, però. Challenge per Dig, vediamo un po' se eventualmente ci sarà il primo punto. Meno male che non è uscito. Allora, 30 secondi per toccare centrocampo partendo dalla po'. Vabbè, sì. Bello così a freddo. Mi piace. Vai. Si parte fra tre, due, uno, poi. Quanta? Uno, due, tre, quattro. Il tempo, man. Sette, quattro, 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 quattro. Vintinove. No, ragazzi. Cioè, ragazzi. Cioè, te lo sei calcolato proprio in millimetro? Eh, l'ho calcolato 15 secondi per arrivare al centrocampo. Non può, Zapp, cosa girerà questa volta? A meno un punto. No. Allora colpisci una crossbar su cinque tiri di controbalzo Di controbalzo Vai Ok dai Secondo Non si parla Quasi Quasi Questa è la rizzo Attenzione Stranamente Mamma mia Cos'è che hai detto stranamente Fuori Ora se la prendo con l'ultima potrei fare due punti Già già Se faccio questa Bella Punto per Zap E adesso continuiamo con la sfida Ascolta Il prossimo tocco che fai a ruota Io spacco bottiglia e ti ammazzo tutta la testa Tutti i capelli che hai Vabbè allora basta un coccio Vai Attenzione Bombers Guardate che vi da No Il coccio Mamma mia Ragazzi però Io stacco tutto e vado a casa Attenzione Si Zero a zero No no Zero a zero Zero a zero Zero a zero Zero a zero 10 a zero Di seguito Di cui 3 No look Questa è bella tosta Questa ti vorrei vedere Fabio Questa è Turo a zero Ragazzi Cosa parliamo Amici a casa Guardatevi la sfida 3 2 4 6 8 9 10 Buona 10 sul gong Segna 5 gol Su 10 tiri Da calcio d'angolo Uh Bella tosta Questa è easy 10 tiri 5 gol Ma guardiamo subito Col primo tiro Vai Venga fuori Goll Rete Primo 2 1 Lunga 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 No Dai Out 5 1 Lommar 5 tiri buttati Buona 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 2 Buona 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 9 4 Bombers 9 4 4 5 5 6 La ruota 6 7 7 9 10 9 10 12 14 14 15 16 ah vediamo adesso la centrocampo la bella la puntone attenzione non ci credo non ci credo mamma mia ragazzi cambiamo bomber in squadra mettiamo omar videomaker mi stringa la mano per favore segna tre rigori su cinque in no look come portiere ovviamente ma qual è il problema passami un pallone va tre rigori di no look con zapiglio in porta è già chiamato vai ciao da piglio ciao eh cosa cosa bravo bravo ho fatto il pallonetto ma questa non la prendevi neanche se eri già luigi buffon fuori fuori ma nei marra non ha funzionato ciao zap ragazzi abbiamo deciso che il punto che uscirà varrà doppio ma la sfida che sceglierà dig la farà zap la sfida che sceglierà che farà uscire zap la farà dig la puoi fare? si vabbè devo solo girare la retta girare la retta qua però tocca a me segna questa la devo fare io vai gira e questa la devi fare te ricordiamo però bombers che nella sfida è partito zap quindi se io faccio due punti ho vinto no cosa c'è a entrare? eh non puoi e finisce il giro finisce il giro al mio ultimo tiro guarda qua bravo di che quindi hai perso due punti perché vale doppio meno uno non rimane che concludere la sfida per i miei rigori andiamo è il momento di portarci a casa la sfida varrà doppio su uno su due attenzione lo sapevo che è arrivato prima o poi attenzione attenzione il punto della vittoria se lo porta a casa come on scriveteci qua sotto le prossime challenge della ruota della fortuna perché per me sarà la sfortuna totale Omar vai a casa non ti voglio più come videomaker bombers 10.000 mi piace qua sotto il link per iscrivervi al nostro canale e il laterale destro altri due video scriveteci delle challenge veramente impossibile perché la prossima la vinco io e toglieteli da sto bomber please sotto al set 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 no ragazzi non scrivete challenge sotto al set a o a a Grazie a tutti.